Benvenuti senza luce in un nuovo video dell'Elden Ring Wiki, quella serie di video nella quale vi spiegheremo dove trovare e come sfruttare al meglio ogni singolo oggetto di Elden Ring. Ogni video sarà strutturato in questa maniera, prima andremo a parlare dell'oggetto in generale, poi andremo a vedere dove trovarlo e successivamente parleremo della sua lore se è presente e speculeremo quando è possibile. Infine, nell'ultima parte del video andremo a vedere una build che va a valorizzare appieno l'oggetto che abbiamo deciso di utilizzare. Nel video di oggi andremo a parlare dell'Ascia di Godfrey, come avrete potuto capire dal titolo. Un'arma colossale davvero unica, l'arma del primo Lord Ancestrale. Richiede 42 forza e 14 destrezza per essere utilizzata, scale in D su destrezza e in C su forza ed oltretutto è un'arma quality che a me piace tantissimo. Dove possiamo ottenere quest'arma ragazzi è davvero semplice, dovremo arrivare al punto in cui Leindel diventa la capitale cinerea, quindi dovremo aver quasi finito il gioco. A questo punto saliremo lungo la capitale fino a raggiungere la camera da letto della regina e da qui la prossima boss fight sarà proprio Godfrey. Ragazzi preparatevi per bene perché questa è una boss fight davvero tosta, composta da due fasi. Nella prima Godfrey userà ovviamente la sua Ascia e sarà davvero davvero ostico, tra Asciate e Pestoni camminerà 4-4 piano piano e poi quando inizierà a fare combo vi lancerà in giro per l'arena senza alcun problema. Successivamente quando cambierà forma si comporterà come il grande guerriero ora Lux e ragazzi in questo caso se vi prende siete praticamente morti, quindi cercate di schivare il più possibile ed utilizzate una build che vi permette di batterlo facilmente. Sulla boss fight purtroppo non posso dirvi dell'altro perché dipende da come giocate e da che build avete deciso di intraprendere e così via, ovviamente se siete un mago potreste scioglierlo grazie alla cometa di Azur, se utilizzate il sanguinamento potreste cercare di farlo proccare il più spesso possibile e così via discorrendo, basta a voi batterlo. E la ricompensa sarà ovviamente la rimembranza di ora Lux ed in questo caso andando alla tavola rotonda a parlare con la legidita anziana potremo ottenere l'Ascia di Godfrey. Ma ora che sappiamo come ottenere quest'arma andiamo a vedere anche cosa ci racconta. Questa è l'arma brandita da Godfrey, il Lord Ancestrale, distrutta in una battaglia a cui prese parte alla guida dei Senza Luce durante la lunga marcia. Quest'arma è diventata il simbolo del voto di Godfrey di comportarsi da Lord ed in seguito della stirpe Aurea, in passato una corona era garanzia di forza. Che dire ragazzi, la descrizione ci racconta ben poco di Godfrey, sappiamo che era un guerriero, un barbaro tra virgolette, non era per nulla un Lord. Successivamente quando è stato scelto da Marica ha giurato di comportarsi da signore, diventare un Lord, un capomastro e così via discorrendo. Quello che ci viene detto inoltre è che quest'Ascia una volta era intera, come possiamo vedere quando affronteremo Godfrey la prima volta nella capitale. Lui sarà semplicemente un'evocazione e qui l'Ascia intera. In questo caso incontriamo il vero Godfrey e dunque l'Ascia è rotta. Ma non sappiamo come o perché si sia spezzata. Fatto interessante, quando Godfrey decide di uccidere Seros per combattere con la sua vera potenza, con la sua antica forma, non userà più l'Ascia giustamente, perché ha rotto il suo vincolo. Tra l'altro ragazzi, avete fatto caso a come la scena è triste? Quando noi stiamo praticamente battendo Godfrey, Seros deciderà di uscire dalla sua forma spiritica, probabilmente per difenderlo, ed invece Godfrey, da guerriero qual è, decide di rompere il suo patto e sfruttare appieno la sua potenza, uccidendo così il compagno di battaglia che ha portato sulle spalle per lungo tempo. Ma ragazzi andiamo avanti, perché non siamo qui per parlare solo e solamente di lore. Dunque, per vedere la build, iscrivetevi al canale, altrimenti non andremo avanti con il video. Ti sei iscritto? Bene, bravo. Accendi anche la campanella, in questa maniera rimarrai aggiornato su tutti i prossimi video. E se vuoi supportarci a pieno, qui sotto trovi i super grazie e gli abbonamenti che ti permettono di vedere i video in anteprima. Creare una build sull'Ascia di Godfrey è davvero semplice in realtà, ragazzi. I talismani praticamente vengono chiamati a gran voce dalla stessa Ascia e perfezionarla è davvero semplice. Ovviamente la nostra arma principale è l'Ascia di Godfrey, che se portata al più 9 ha un danno potentissimo. Basiamo anche tutto sulla sua cenere di guerra, che ci permette di creare delle combo devastanti. Il ruggito regale consiste in pratica nel lanciare un possente grido di guerra che incrementa l'attacco, scagliando al contempo un'onda d'urto che non può essere parata abbassando il baricentro. Finché attivo l'effetto gli attacchi potenti diventano in affondo. Quindi facciamo un primo colpo, lungo va detto, quindi prenderemo probabilmente un colpo, però non è fermabile, abbiamo un Hyper Armor e successivamente tutti i nostri attacchi vanno a cambiare, diventando molto più letali. Nella mano sinistra, ma assolutamente non equipaggiata, andremo ad indossare l'Ascia degli Altipiani, che in realtà non ci interessa come scala, non ci interessa nulla di quest'arma. L'unica cosa che ci interessa è che va a potenziare gli urli. Come possiamo leggere dalla descrizione, gli Arditi scendono in battaglia gridando il loro nome, forti della potenza che quest'arma infonda alla voce. Ebbene sì ragazzi, non è una descrizione messa a caso, funziona proprio così. Il set di armatura ragazzi ve lo potete scegliere, non è obbligatorio indossare niente di particolare. Io vi consiglio come al solito di restare in un roll medio ed andare ad avere una stabilità di 51. Nonostante abbiate già un hyper armor nella cenere di guerra dell'Ascia di Godfrey, poter concludere dei colpi grazie alla stabilità non è affatto male. Quindi vedete di scegliere un'armatura che più si addice a questi requisiti. Io ho deciso di indossare il set del lupo sanguinario completo. I talismani che ho abbinato a questa build sono semplicissimi. Il primo è la scheggia di Alexander che aumenta notevolmente la potenza d'attacco delle abilità. In questo modo il nostro ruggito farà un sacco di male. Come potete vedere dalla clip della build, sciolgo i cavalieri marcescenti, che sono dei nemici abbastanza ostici, con una sola comba di attacchi, quindi tre colpi. Il secondo è il medaglione ruggente che potenzia gli attacchi basati su ruggiti e soffi. Dunque va a incrementare anch'esso il danno della nostra cenere e ci potenzia finché l'urlo è attivo. Terzo ma non meno importante, l'icona di Godfrey che potenzia l'attacco caricato di magie ed abilità. In questo caso di magie non utilizziamo, però va a potenziare l'attacco caricato delle abilità. Ed in questo caso andiamo nuovamente a rendere potentissima la nostra cenere di guerra, che per avere un costo in PA di 25 potremmo sfruttare tantissimo in ogni situazione di pericolo e assicurarci di fare un danno madornale. L'ultimo talismano che ho deciso di indossare e che ritengo essere la vostra scelta ragazzi è il talismano Asha. Va a potenziare gli attacchi caricati. Siccome abbiamo un'arma che ci cambia il moveset degli attacchi pesanti ed il nostro attacco caricato diventa dunque molto più veloce, ritengo questo talismano abbastanza utile. Ma se avete delle idee migliori e più adatte al vostro stile di gioco, ragazzi, cambiatelo pure. Questa è una build semplice e praticamente obbligata ragazzi. Quindi andiamo a vedere un recap in un minuto e poi ci salutiamo. L'Asha di Godfrey è un'arma davvero peculiare che possiamo ottenere praticamente alla fine del gioco una volta resa l'Eindel capitale Cinerea e battuto Godfrey davanti all'entrata dell'albero madre. Richiede 42 forze per essere brandite, 14 destrezze, scala C su forze e D su destrezze. È un'arma quality davvero potente. La build migliore per quest'arma utilizza ovviamente l'Asha di Godfrey e nella mano sinistra un'Asha degli altopiani non equipaggiata solamente per il suo perk che potenzia Yurly. Il set di armature è completamente a vostra scelta, basta avere un Hyper Armor dunque stabilità 51 ragazzi ed un carico medio ovviamente. I talismani sono la scheggia di Alexander, il medaglione ruggente, l'icona di Godfrey ed il talismano Asha, ma quest'ultimo è a vostra scelta. Se insomma volete impersonare il Lord Ancestrale originale ragazzi questa è la build che fa per voi. Che dire, come vi ho già detto la build è davvero semplice, è davvero basilare ed è funzionale. Non si può fare di meglio secondo me con l'Asha di Godfrey, forse si può fare qualche modifica qui e lì, ma come potete vedere questa rende tantissimo. Ci ho finito ben tre run ragazzi, cioè non per dire, me la sono spolpata abbastanza questa build ed era sempre così. Ma ora voglio sapere la vostra ragazzi, quindi ci vediamo nella sezione dei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarci ed aiutarci a crescere. Accendete la campanella per rimanere aggiornati su ogni video che uscirà sul canale e se volete supportarci trovate qui sotto un bel tastone con un pollicione in su, cliccatelo ci farà piacere e se volete supportarci appieno trovate anche i super grazie e gli abbonamenti che oltretutto vi permettono di vedere i video in anteprima. Noi ci vediamo domani in un prossimo video, ciao a tutti! Ciao a tutti!